Con molto molto piacere e orgoglio oggi ci troviamo qua da Cireale in questo fantastico e meraviglioso carnevale, uno dei carnevali più belli d'Italia, quindi complimenti a voi e grazie per questa possibilità che avete dato a Re Biscottino e alla Regina Cunetta di Novara di essere qua oggi. Il nostro carnevale da quattro anni è stato spezzato in due momenti, nel periodo invernale lo dedichiamo esclusivamente alla carta pesta, mentre nel periodo primaverile, come siamo adesso, lo dedichiamo ai fiori, ai carri infiorati, che sono una peculiarità del nostro carnevale da tanti anni, dal 1930, realizziamo i carri infiorati. Pochi carnevali offrono questa particolarità. Diciamo che quelli più conosciuti sono quelli di Sanremo, ma i nostri sono un tantino diversi perché sono simili al carro che abbiamo alle spalle, quindi con un soggetto preciso coperti totalmente di fiori, particolarmente di garofani, parliamo di 30.000 garofani, quindi un bel numero. Ma che aggiungere, il direttore ha detto benissimo tutto, vive il carnevale di tutta Italia e vive il carnevale di Acireale, vi aspettiamo nelle prossime edizioni, quest'estate riproporremo la sfilata dei carri, quindi siete benvenuti, o se no d'inverno che sarebbe il momento ideale per festeggiare questa bellissima manifestazione. Complimenti a voi e vi aspettiamo tutti quanti qui numerosi. Una grande emozione per noi, dopo un bel po' di lavoro siamo riusciti ad arrivare nelle estremità dell'Italia, pensate siamo qui in Sicilia, con tantissimi novaresi qua in Sicilia. Forza ragazzi, fate sentire il vostro calore. Allora, il nostro carnevale è proprio il carnevale del sabato grasso, noi vi invitiamo volentieri a Novara, con tutto il cuore. Grazie per l'invito e speriamo di poter venire in qualche modo e di essere presenti al vostro carnevale. Grazie intanto per essere qui oggi.